Lo sportello unificato del Comune dell'Aquila, che si trova negli uffici di Via Roma, resterà chiuso nella giornata di lunedì 2 luglio. La chiusura si è resa necessaria per consentire il trasferimento degli uffici nel settore politiche per il benessere della persona, dalla precedente sede di Via Rocco Carabba 6, nei locali di Viale Aldomoro 30. Da martedì 3 luglio, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Francesco Bignotti, lo sportello unificato riprenderà regolarmente le attività nei locali in fase di allestimento, che si trovano al piano terra della nuova sede di Viale Aldomoro. Per questo motivo, la scadenza delle richieste di cambio alloggio degli immobili del progetto case e demap fissata per il 30 giugno è stata modificata a martedì 3 luglio, per la sola ipotesi di consegna a mano della richiesta. Resta invece invariata la scadenza del 30 giugno per l'invio della menzionata istanza a mezzo del servizio postale.